ciao e benvenuto su ghiera un giro torno al mondo dell'orologeria sono pietro e oggi vi voglio raccontare come è andata ma prima di arrivare a questo avete già letto nel titolo di chi si parla voglio ricordarvi di iscrivervi al canale mi raccomando è molto molto importante che attivate anche la campanella delle notifiche così ogni nuovo video vi arriva il pop up di youtube o il messaggio quel che sia di youtube e i miei canali li lascio sempre in fondo però almeno instagram ve lo lascio qui bello in chiaro seguitemi scrivetemi in dm eccetera mi piace molto utilizzare instagram per mostrare i miei orologi fatelo anche voi iscrivete mi faccio quattro chiacchiere rispondo davvero tutti quindi forse anche più di youtube perché youtube è un po più grande il canale ma alle volte rispondo con un po più di lentezza non è che non rispondo però vabbè manda le ciance come è andata come sono arrivato a questo bisogna raccontarla per bene allora non mi chiedete i dettagli del posto dove sono andato il concessionario dove sono andato non ve li dico ok su questo ve lo dico già non me lo domandate non ve lo dico c'erano in vetrina in questa gioielleria in questo concessionario rolex concessionario rolex ufficiale alcune referenze che mi interessavano senza come dire senza dubbio in particolare il submariner date acciaio oro blu prima cosa perché ho scelto questo modello blu o nero non avevo particolari necessità ho scelto questo modello perché rispetto a quelli in solo acciaio sono quelli più ricercati sul mercato ho deciso di fare una via di mezzo tra il full gold che non fa diciamo per me non non è una tipologia di orologi che che mi interessa e questo acciaio oro invece rappresentava una buona via di mezzo parliamo di un orologio che senza dilungarmi sul punto di vista tecnico oggi voglio parlare dal punto di vista commerciale comunque parliamo di un orologio che costa 14 mila cento euro mi recco quindi vedendolo in vetrina entro un particolare sono già cliente di questa gioielleria ho già acquistato qualcosa da loro mai rolex quindi un pochino mi conosco ma non sono un grande cliente entro parlo con il commesso e mi portano nella sezione dedicata a rolex che è un salettino molto elegante mi fanno sedere eccetera e iniziano a parlarmi ovviamente non sanno se sono appassionato se sono un commerciante un reseller se sono uno sprovveduto non lo sanno non sanno chi entra da quella porta non possono ricordarsi tutti i clienti non ho quel grado di affezione però lo ricordo entro e iniziamo a parlare io ovviamente faccio capire anche perché ho scelto quell'orologio quindi do per scontato e la conversazione poi verterà anche su questo che entrambi sappiamo che i orologi i rolex sono di difficile reperibilità non li trovi tutti i momenti c'è difficoltà la produzione non sta dietro alla domanda e a rolex va bene così eccetera va benissimo e però gli dico chiaramente io voglio questa referenza che cosa fanno mi dicono lei è un polso anche abbastanza contenuto l'ha provato e dico no non l'ho provato mi fanno allora partire con una cassetta che mi portano mi portano davanti a me con una serie di dei jazz c'era Wimbledon c'erano delle referenze che ovviamente non sono le referenze hot magari c'erano dei dei jazz in oro bianco che comunque erano interessanti io su questo li ho un po fermati e gli ho detto guardate è molto molto bello sono una tipologia di design che mi piace però io ho già un rolex vintage che è il mio air king che chiamo con quadrante explore che mi piace tantissimo e che per me è un orologio che già rientra in quei parametri di design tra l'altro sempre rolex e che quindi ho detto sostanzialmente non sono interessato quindi che cosa vuol dire prima strategia entra un cliente non è fedele non è stato chiamato eccetera hanno cercato di portarmi su delle referenze che fossero diciamo diverse da quella che io richiesto perché più accessibili e più trovabili non ho chiesto se queste fossero in pronta consegna e potesse acquistarlo subito attenzione non lo so non ho non ho voluto approfondire la questione proprio perché per me non erano interessanti ecco che cosa faccio allora prendo e riporto la discussione su su mariner allora mi dicono quello in vetrina non è disponibile però portano e me lo fanno me lo fanno vedere me lo fanno provare che cosa ho io al polso in quel momento ho uno zenith e il primero a 384 il mio gray watch come sapete ecco io da quel momento faccio capire a chi ho davanti che uno sono un appassionato ok perché uno zenith il primo l'acquista un appassionato non l'acquista uno speculatore non l'acquista uno che capisce poco quello è una tipologia di orologio che davvero rientra solo su su questo seconda cosa che fanno che faccio capire che è una buona disponibilità di spesa per questa tipologia di prodotti questi orologi perché parliamo di un orologio che sta 8500 euro di listino quindi sto dando un messaggio anche con questo dettaglio il tolgo dal polso indosso il submariner mi sta bene bellissimo orologio inutile dirlo perché rolex vende tanto che gli orologi sono belli da quando hanno iniziato a produrli e così continueranno a farli per chissà quanto sono belli stanno bene al polso hanno dei look che piacciono probabilmente al 99 per cento delle persone poi c'è benissimo che cosa fanno mi dicono che ovviamente non c'è disponibilità e mi raccontano cosa loro fanno per i clienti attenzione loro fanno cosa vuol dire vuol dire che quando si parla di liste si parla ogni concessionario rolex può fare ciò che vuole con quelli che sono gli orologi che gli arrivano vuole prenderli venderli tutti ad uno e poi chiudere bottega per quell'anno cosa che non gli viene fare però vuole farlo può farlo non c'è da parte di rolex un controllo ad oggi di questo e quindi che cosa fa questa questa gioielleria mi dice io prendo il suo numero il suo nome in il suo nominativo e la metto in lista attenzione però in lista per questo orologio attenzione mi dicono questa non vale per 10 anni fra 10 anni la chiamiamo questa vale solo per quest'anno 2022 nel momento in cui il 2022 non potrà non potremo soddisfare la sua richiesta ci risentiamo nel 2023 per rinnovarle sarà tra virgolette una nuova richiesta ma non è una lista la lista no arrivi perché perché la lista diciamocelo chiaramente è un po una fregnaccia e ve lo dico perché sono in una lista da tre anni e mezzo per un orologio in un'altra gioielleria concessionaria rolex per il quale non verrò mai chiamato se chiamo se chiamo mi dicono sì sì lo vediamo su nome ma non verrò mai chiamato perché la referenza in quel caso è una referenza davvero hot parliamo del look quindi fuori produzione cioè sappiamo già tutto no su su questo nel momento in cui io chiamo mi dicono ci sono per accontentarmi ma non arriverà mai a me quell'orologio quindi la lista non è reale non è una lista dove tu arrivi a un certo punto e ce l'hai perché non può essere reale perché sennò qualsiasi persona ha almeno 10.000 15.000 euro sul conto in banca e vuole fare un affare ma in un concessionario rolex ne prende uno si mette in lista per uno e quando arriva al suo momento lo prende lo porta poi da un reseller glielo dà e per essersi preso questa mezz'ora di permettersi in lista e mezz'ora per ritirare un orologio in un'ora del suo tempo impiegato si fa 10.000 euro 15.000 euro raddoppia il capitale triplica il capitale dipende dalla referenza che gli danno questo non è accettabile quindi che cosa fa in questo caso cosa fare le gioiellerie le concessionarie rolex cercheranno il più possibile di premiare anche quelli che ritengono potenziali clienti o clienti reali e che poi con l'orologio lo vogliono tenere e non lo resellano cosa che tra l'altro mi è stata detta durante il mio momento in concessionario ma allo stesso tempo mi hanno detto lei si trova ad esempio forte dei marmi quest'estate in vacanza entra in una gioielleria trova pronta consegna questo stesso orologio perfetto lo dica dica guardi io sono già in lista qui in questa gioielleria qui lo prendo in questo momento però contattate quella gioielleria per liberare l'orologio da questo vincolo che io ho dato quindi questa richiesta mi è sembrata anche sensata ragionevole perché visto la scarsità del bene se poi uno se ne ritrova addirittura due andrebbe un po contro questo quindi sono stati molto gentili da questo punto di vista detto che sì mi trovo forte ai marmi sono l'ultimo dei pirla figuratevi se mi danno a me il submariner acciaio oro chiacchieremo ancora un po' parliamo eccetera a un certo punto io dico nel momento in cui mi è tornata guardate ve lo dico francamente io ho scelto l'acciaio oro perché so che è una referenza meno cercata di altre per quanto riguarda rolex ma se arrivasse quello in acciaio sono ancora più contento se arrivasse un submariner nero no data sono ancora più contento non solo perché risparmio ma perché anche un orologio che sarei più felice di avere in collezione loro su questo non ho neanche capito se poi hanno preso nota il fatto che a me interessasse semplicemente un submariner e al termine di questa fantastica chiacchierata mi hanno dato un catalogo rolex è il secondo catalogo rolex che ho ci sto facendo la collezione ma magari anche l'anno prossimo ne prendo un altro così come mi era successo la volta precedente mi hanno dato il catalogo e mi hanno detto ragazzi chissà che cosa succederà questo è quello che succede se vai in concessionario rolex a comprare un orologio a listino poi magari ne faccio un altro se mi compro il day just e me lo danno subito magari ve lo dico grazie per aver visto questo video vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me facebook instagram telegram gruppo facebook dedicata all'offerta per gli orologi iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche ci vediamo qui ogni volta che volete per vedere un nuovo video se non l'avete se non ne avete ancora abbastanza di video che parlano dell'orologeria qui in fondo vi lascio anche qualche altro consiglio e qualche altro video da visualizzare va bene ciao a tutti ragazzi alla prossima